... Maria, Gia Fornella, Carlo Valentina, Silvano Franga, Lloriana Marica, Roberto Rosanna, Marco Marcella e Roberto Paola. I ragazzi del corso avanzato, assieme a quelli del corso di gara, diciamo così, ci presentano un Fox. ... Grazie ragazzi, forti di applausi, come dicevo sono due mesi che ballano, hanno venuto esserci il mio senso, ovviamente sono emozionatissimi e ci presentano il pezzettino di Mazzurga, sono un pezzettino. Grazie. Bravi ragazzi, bravissimi, grazie a Marco Marcella. Come dicevo ci presentano il bello miscio, iniziamo con il balza. Grazie a tutti. 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 Applausi. Grazie a tutti. 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 Sei carico? Sì Così deciso Ti scelgo il posto Ti scelgo il posto, va bene, dobbiamo tutta la notte Dopo domani è Natale, eh Va bene lì davanti al bagno? Sì Vado? Vai Eh, mettiti a posto Tango 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 Grazie a tutti, potete accomodarvi che avete un po' simbana Roberto Giulio Alberto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.